Naturalmente non parlo per il mio gruppo, eventualmente parlo in dissenso rispetto al gruppo. Signor Presidente, io non parteciperò alla votazione. Signor Presidente, nasce come legge amati e altri, nasce come una legge che si voleva occupare di ridurre l'attesa, esce come una legge che incentiva l'attività libero professionale. L'aumento del budget, dove fosse possibile, la istituzionalizzazione di una norma che non è più norma dello Stato, nasce una legge che non riconosce il regolamento regionale dello stesso governo emiliano, nasce una legge che non riconosce l'esistenza di una norma dello Stato, di un piano nazionale di governo delle liste d'attesa, del contratto dei medici. Nasce una legge che non serve a nulla. Quella di prima serviva a qualcosa, nel giudizio di chi vi parla, questa non serve a nulla. Mi dispiace soltanto che abbiamo, siamo stati, un anno e tre mesi attorno a questa legge, nei tentativi più vari di trovare un punto d'incontro, quando in realtà la volontà iniziale era una volontà che si era manifestata attraverso l'insurrezione di alcuni medici degli ordini professionali, accolta più di una volta come elemento per poter ridiscutere, rimeditare, ha portato a questo risultato. Io sono soltanto contento di un fatto che abbiamo votato, che alla fine abbiamo votato, affinché si sappia come la pensiamo tutti. In questo anno e tre mesi, pazientemente abbiamo atteso, per non disonorare la battaglia. Nonostante c'era chi consigliava di piegarla alla più elementare propaganda politica, ma non era questo l'intento. Vi svelo che la proposta di legge nacque mentre stavo guardando un programma televisivo, Mixer di Minoli, che intervistava l'assessore regionale alla salute dell'Emilia Romagna e l'ex coordinatore degli assessori regionali alla salute della Lombardia e che raccontava qual era il sistema emiliano che il giorno dopo andai a confrontare con i dati e vedi che da quando avevano approvato quella delibera della giunta regionale i dati in termini di allineamento tra l'attività istituzionale e quella libero professionale erano ritornati a contenersi. L'Emilia Romagna è l'unica regione italiana che ha questo tipo di risultato con riferimento all'elice d'Emilia Romagna. E di lì pensammo di proporre, senza avere nessuna riserva mentale, anzi vi posso dire che quando ci ritrovammo per sottoscrivere la legge nessuno di noi avrebbe mai pensato che questa legge, che in qualche modo è anche banale nel suo meccanismo, che questa legge avrebbe prodotto tutta questa fibrillazione. E questo ci dispiace, ci dispiace e mi dispiace tantissimo perché questo argomento poi è stato piegato alle interpretazioni più varie di tipo e di rango politico quando in realtà da parte nostra, come anche il Presidente del Consiglio regionale sa che abbiamo partecipato a tante riunioni, da parte nostra c'era soltanto l'intento di metterci dalla parte dei cittadini in fila al CUP. Non voglio dire che gli altri non sono dalla parte dei cittadini in fila al CUP, non l'ho mai detto, ne lo dirò. Però trovo alquanto bizzarro che una norma statale, una legge dello Stato, una legge dello Stato, in un Paese a legalità formale, dove la legalità non è soltanto, che so, l'intervento con riferimento ai fatti di mafia, di camorra, di terrorismo, non è soltanto con riferimento a quei fatti, certo quelli maggiormente, ma la legalità è il rispetto delle norme sempre. Chi di voi può dire, senza il rischio di essere smentito, che in Italia non esiste una legge che impone di tenere allineati i tempi? Chi di voi si alzi? Chi di voi si alzi e dica «No, non esiste questa norma, tu stai raccontando sciocchezze». Chi di voi può dire che non esiste un piano nazionale di governo delle liste d'attesa che individua questi rimedi? Chi di voi può dire che non esiste il contratto dei medici che prevede questo rimedio? Chi di voi può dire che il regolamento regionale non prevede questo rimedio? Da domani mattina noi sfideremo il governo regionale sulla applicazione della disciplina molto più irragionevole nella sua severità contenuta dal regolamento vigente. perché da quando abbiamo avviato il nostro percorso noi adesso sappiamo quali sono i numeri e dove andare a prendere i numeri quando servono. Quali sono le retribuzioni dei medici in istituzionale e in libera professione azienda per azienda. Noi sappiamo qual è l'azienda che non ha mai redatto il bilancio analitico e separato sull'attività libero professionale. Noi sappiamo grazie a uno studio e ringrazio del servizio studi del consiglio regionale ringrazio i suoi componenti noi sappiamo che l'attività viene svolta in passivo signor presidente e signori assessori da parte delle ASC viene svolta in passivo e una legge dello Stato dice che non può essere svolta in passivo noi sappiamo grazie a quella proposta di legge che in alcune aziende non si accantonava il 5% dalla retribuzione dell'attività libero professionale noi sappiamo che in altre aziende invece si accantonava ma andava in economia e non si spendeva noi sappiamo queste cose noi sappiamo ma perché ne abbiamo le prove noi non siamo come Pierpaolo Pasolini che all'inizio degli anni 70 risse sul Corriere della Sera di Ottone io so ma non ho le prove né gli indizi noi invece sappiamo ne abbiamo le prove e ne abbiamo gli indizi per cui da questa pagina che per alcuni è servita per passare la nottata di una proposta di legge esigente che richiedeva e richiedeva molto impegno e anche farsi qualche nemico perché l'attività politica e amministrativa consiste anche nel dispiacere qualcuno se non dispiaci nessuno di solito non hai deciso noi lo sapevamo infatti qualcuno aveva detto ma voi vi mettete contro i medici o contro una parte di questi che avevano avvertito e però noi tra lo scegliere di metterci contro una parte dei medici e metterci invece contro la legge e il regolamento regionale del governo che sosteniamo abbiamo preferito metterci dalla parte del regolamento del governo regionale che sosteniamo e della legge immagino che nessuno di voi possa dire che questa scelta sia stata bizzarra noi oggi sappiamo abbiamo la prova e abbiamo gli indizi da questo momento in poi grazie a questa legge cambia tutto nel sistema di monitoraggio e di controllo da parte dei consiglieri regionali tutti i consiglieri regionali rispetto a questo argomento e se c'è una cosa buona che è venuta fuori da questo dibattito è che secondo me in tutti noi è aumentata la consapevolezza di questo problema e questa è già di per sé una cosa importante notevole su cui io devo ringraziare anche i colleghi che con anche i colleghi che con maggiore determinazione hanno ostacolato la proposta di legge anche perché grazie a quell'ostacolare noi abbiamo avuto l'opportunità di approfondirla di più e sono emersi più dati più carte più informazioni che oggi ci fanno dire che la questione esiste e poteva essere come dire avviata non dico a soluzione ma a miglioramento attraverso quel sistema mi spiace mi spiace davvero mi spiace perché secondo me per quanto si dica è un sospetto però e credo che in politica si possa sospettare mi spiace perché secondo me l'argomento della disputa politica ha avuto maggiore impatto rispetto al merito di questo problema e comunque in ogni caso io so bene noi sappiamo che la vita politica ha di queste asprezze e quindi non è che ne facciamo una malattia invece ci facciamo contagiare da questo avvenimento affinché sia più forte la nostra risposta e a chi mi dice guardate perché non l'avete fatto prima visto che alcuni di noi stanno da tanto tempo qui noi abbiamo sempre risposto perché non ci avevamo pensato e a quelli che dicono perché non l'avete fatto prima noi chiediamo perché non ce l'avete detto visto che voi invece ci avevate pensato le cose a volte nascono così e a volte le soluzioni sono addirittura molto più semplici di quanto si possa pensare mi dispiace molto mi dispiace molto però in ogni caso da oggi comincia e si intensifica una battaglia per combattere le liste d'attesa perché le cose buone della sanità pugliese sono annebbiate dalle liste d'attesa qualche settimana fa parlando dell'ospedale di Brindisi dove si fa la Total Body Radiation e sono soltanto due centri dove si fa in Puglia Brindisi e San Giovanni Rotondo un cittadino mi ha detto eh no non puoi parlare bene della sanità perché ci sono le liste d'attesa quel cittadino non riconosceva la Total Body Radiation perché c'erano le liste d'attesa cose incomparabili a questo servirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi il nostro impegno a tenere sempre acceso l'argomento delle liste d'attesa in sanità Grazie a tutti